la faragnameria truccato ha aperto nell'arco del 2012 un nuovo showroom sito a jesu rivolto principalmente a una clientela privata e al settore della ristrutturazione inserendovi all'interno le numerose referenze con cui collaboriamo da diversi anni in particolar modo Eric Glass nostro partner del 2004 ci dà la possibilità di far toccare con mano il prodotto porta tutto vetro indice di qualità e di design riconosciuta a livello nazionale dopo questa piccola intervista vi invitiamo tutti quanti a venirci a trovare